Credo che l'impegno delle istituzioni è forte ad ogni livello, sia centrale che territoriale. Sicuramente bisogna fare ancora di più e meglio, perché i dati che abbiamo sugli infortuni e sulle morti sul lavoro, anche se è vero che sono in diminuzione, sono comunque troppo alti. Se dopo si tiene presente il fatto che le ore lavorate sono quelle che vanno viste e verificate, non tanto il numero di dipendenti, perché vi sono anche quelli in cassa integrazione, ci rendiamo conto che la situazione è ancora più grave. Noi come Commissione parlamentare d'inchiesta abbiamo fatto proposte precise nella nostra relazione finale. Riteniamo che sia necessario un diverso coordinamento di tutti i soggetti che sono preposti ad un'azione di prevenzione e di contrasto. Ci auguriamo che il prossimo Parlamento voglia vedere meglio anche le competenze che tutti questi soggetti che... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.